Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato Antonino Scopelliti, ucciso il 9 agosto del 1991, oggi è presidente della fondazione che porta il nome del padre. La sua mission, dopo una parentesi nelle istituzioni, è chiara. Ed è una fondazione che in questo momento sta iniziando a rivedere forse il concetto di antimafia. Noi vorremmo cercare di fare antimafia, di convincere i ragazzi, soprattutto dei territori più complicati come quelli calabresi o siciliani e via dicendo, che c'è un'alternativa. Nel momento in cui io chiedo ai ragazzi, ragazzi scegliete da che parte stare, io devo essere pronta a dare loro una risposta. Perché quello che loro ti dicono è, io scelgo ma che cosa ho in cambio se io scelgo di restare in Calabria. E allora come fondazione dobbiamo creare le condizioni perché i ragazzi possano restare in Calabria, possono investire, possono mettere a servizio della Calabria le loro competenze, quello che loro imparano a scuola, quello che loro imparano formandosi anche altrove, ma rientrando per rendere la Calabria una regione come tutte le altre, posso dire, ma soprattutto una regione che è in grado di ribellarsi alle mafie.